Buongiorno popolo rossonero e buongiorno popolo del bandito, buon martedì 30 gennaio. Allora, avete capito dalla copertina che non sarà un video di bombe, trick and track di calciomercato, ultime ore, arriva Tizio, Caio e Sempronio, in panchina Andonio, insomma no. Io sapete che sono un po' diverso da questo punto di vista rispetto agli altri, quindi io vi informo su qualcosa di molto più grande che sta succedendo e che stranamente in Italia, ho visto è passato pochissimo, ho dovuto informarmi su siti esteri, su siti di giornali stranieri perché una notizia così importante in Italia evidentemente non ha riscontro, ne parlo perché ovviamente riguarda la situazione economica, sapete che me ne occupo spesso, riguarda la situazione economica dei nostri rivali cittadini, ritengo che ciò che magari veniva pensato o si pensava accadesse magari in primavera, ahimè, ahimè per loro, dalle notizie che ci sono qui la vedo brutta brutta brutta, però loro immagino che invece siano convinti che anche queste siano tutte bufale, tranquilli, è tutto. Un like al video se vi va, iscrivetevi al canale se volete qualcosa di diverso, tipo il video di oggi, campanella per le notifiche e se volete fare o farvi un regalo la cover del bandito con il coro del bandito, link in descrizione, sconto del 25%, io vi ringrazio a prescindere. Ringrazio i nuovi abbonati, adesso ero presissimo con queste notizie e ho dimenticato di segnarmi i nomi ma promesso lo farò nel pomeriggio perché sono arrivati dei nuovi abbonati ed è giusto ringraziarli, io vi ringrazio. Allora, la notizia ovviamente riguarda il crollo oramai di Evergrande, che è questa società quotata in borsa cinese in cui hanno investito banche, aziende tra cui, ed ecco perché ne parliamo, la Suning di Zhang, ci hanno investito praticamente tutto in questa società di questo colosso che era un colosso di costruzioni cinesi. Allora, partiamo dalla rassegna stampa, così poi sviluppiamo il discorso. Allora, Sky News Australia, tramite Ross Greenwood, redattore di Sky News Business, ha scritto ieri sera che molti grandi investitori internazionali dentro Evergrande, si ritroveranno senza nessun denaro dai loro investimenti nel colosso cinese. Questo è Sky News Australia, Ross Greenwood, redattore di Sky News Business. La notizia nasce dal fatto che il Tribunale di Hong Kong ha ordinato lo scioglimento della società di borsa Evergrande nella giornata del 29 gennaio 2024. La Reuters, ma che ve frega voi della Reuters? A voi avete Biasin, avete Guarro che vi informano, che ve frega voi della Reuters? Il castello di Carte sta crollando. Io capisco che chi segue Biasin è tranquillo, chi segue Guarro è tranquillo, chi segue Bergomi è tranquillissimo. È la Reuters che esagera, che ve frega voi. NewYorkTimes.com, NewYorkTimes.com. 300 miliardi di dollari di debito. E da qui la notizia del Tribunale di Hong Kong che ha detto chiudere. Financial Time robetta da nulla il Financial Time. Vuoi mettere con la potenza di Marotta il Financial Time che ci fa? Tribunale di Hong Kong ordina la liquidazione di Evergrande. Milo Sguo che è un importante analista economico soprattutto del mondo asiatico è stato il primo a dire che Evergrande sarebbe inevitabilmente crollata, malgrado il tentativo di qualche mese fa del governo cinese di tentativo disperato di cercare di portarla al salvataggio. Allora lui ha fatto un appello, io non so se fra di voi ci sia qualcuno, non penso, ve lo auguro, anzi no, in questo caso non ve lo auguro perché finirebbe male, ma insomma per capirci. Se qualcuno avesse investito soldi nell'azienda come Evergrande, in società come Evergrande, Tencent, Alibaba, Olufax, Milo Sguo ha fatto un appello, ho letto ieri, stop, finish. Quindi approfitto, questa è una comunicazione di servizio, Milo Sguo dice stop. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Qualche giorno fa era uscita la notizia che Lion Rock, che è la holding alle Cayman usata per rilevare il 31% dell'Inter, è a rischio cancellazione. Avevo evitato di dare questa notizia perché tanto a volte uno si stanca anche di ripetere le cose, di dire guardate che la situazione è questa, non pensiate che perché siete primi in classifica e perché la stampa italiana non parla di queste cose, perché la stampa italiana non osa chiedere dove sia finito. Stefanino Zang, sono rimasto io a chiedere. E poi parentesi, che il Milan vinca o che il Milan perda, non è che dovete venire nei commenti a dirmi, ma non parli di Zang. Chi c'entra? Che il Milan vinca o che il Milan perda? Si parla di Zang, ma io ne parlo perché mi piace la verità, la libertà, vorrei che fosse un uomo libero, vorrei che venisse ancora in Italia a seguire la sua squadra del cuore. Siete voi che siete un po' strani, che non vi preoccupate della fine che ha fatto il vostro Presidente, il vostro grande Presidente, meraviglioso, che vi ha portato così tanto in alto e così tanti successi e voi ve ne strafregate della fine che fa e che ha fatto il vostro Presidente. L'importante è essere primi in classifica, lì davanti, sia mai che succede, che non ce la fate, sia mai. E tutto il resto non conta. Allora, se il Milan perde, commenti, ma oggi non ci parli di Zang. Intanto io parlo di quello che voglio. Primo, se chi mi vuole seguire mi segue, chi non vuole seguirmi non mi segue. Parlo del Milan, perché ovviamente adoro, amo il Milan, a prescindere dai risultati che fai, quindi parlo del Milan. Ma ho un taglio del mio canale più giornalistico, così come aspirazione personale. E quindi il tema Zang è un tema che qualunque vero giornalista, e io lo faccio in quanto aspirante, non giornalista, ma aspirante alla ricerca della libertà, della verità e della libertà, dovrebbe essere un tema quotidiano capire che fine abbia fatto questo povero ragazzo. Invece a voi non ve ne frega nulla. A voi parlo, a chi mi commenta poi, agli interisti che commentano quando il Milan appena appena ha un problema, pareggia e non ci parli di Zang. Vedete che vi parlo di Zang anche quando il Milan pareggia e non vince. Perché? Perché ci tengo di più io a Zang che voi. Voi di Zang non ve ne frega nulla. Adesso con quello che vi ho raccontato che è successo e sta succedendo a Evergrande. Zang aveva investito tutto lì. Quindi la situazione è ancora più drammatica di quello che era drammatica il mese scorso, due mesi fa, insomma da quando è sparito Stefanino. Ora, volete anche voi, prima che tutto venga giù, cercarlo questo ragazzo, sapere che fine ha fatto questo ragazzo? Sì o no? I giornalisti italiani che per loro Evergrande, forse perché sembra il nome di una bibita analcolica, Evergrande, una bibita analcolica, no? Facciamo uno spritz con Evergrande, capito? Cioè per loro un po' forse pensano che sia questo Evergrande. Non capiscono nemmeno che il crollo eventuale, oramai direi sicuro e certo di Evergrande, si porterà dietro banche, aziende, società. E' una cosa a livello globale, a livello mondiale, addirittura potrebbe portare milioni di persone alla disperazione economica. Ma per loro è più importante, veramente ragazzi, la situazione della stampa italiana è veramente drammatica, è veramente penosa. Come fanno a non parlare di quello che sta succedendo, di questo argomento? Siamo in una situazione veramente che è paradossale, è veramente paradossale. Comunque il senso del video lo avete capito, la situazione è drammatica, drammatica per Stefanino Zhang, per la Suning, e di conseguenza che ne dicano e che ci raccontino anche per la squadra quei colori sbiaditi, con quei colori tristi. Io penso che prima o poi qualcuno dovrà rendere conto anche del silenzio che c'è intorno a questa vicenda e i giornalisti dovrebbero veramente vergognarsi, perché quando tutto succederà e scateneranno, diventeranno tutti super informati, super lo sapevano, sapevano tutto loro. Come fate? A chi rispondete per riuscire a non collegare i puntini? A non collegare i puntini? Va bene, spero di avervi reso un servizio, perché così stanno le cose, così sono. Io credo che vada fatta chiarezza, perché è ovvio ed evidente che Zhang non è più in grado di gestire questa società, e quindi io mi chiedo come possa andare avanti tutto così, come se niente fosse. Se siete d'accordo con me, un like al video, vi ringrazio, supportatemi, oltre che sopportatemi, e oggi pomeriggio, che vi devo dire? Mi cadono le braccia, oggi pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.